Benvenuti a questo nuovo appuntamento di Un'Opera in Pillole. Ancora una volta il protagonista sarà Raffaello, proprio perché in questo mese di aprile ricorrono i 500 anni dalla sua scomparsa. Infatti morì il 6 aprile del 1520, a soli 37 anni. L'opera che prenderemo in esame è La visione di Ezechiele. Sullo sfondo di uno strepitoso alone dorato composto dalle effigi dei cherubini, il Padre Eterno in gloria, fra i quattro simboli degli evangelisti, domina la composizione, secondo un'iconografia derivata dalle raffigurazioni classiche di Giove e più specificatamente da un rilievo con il giudizio di Paride presente su un sarcofago di Villa Medici a Roma. In basso, su una lingua di terreno prospicente il mare, una figurina investita da un raggio di luce, forse quella di San Giovanni a Patmos, come ritenuto da una recente interpretazione critica, assiste alla rivelazione. La visione di Ezechiele è un olio su legno di 40x30 cm conservato alla Galleria Palatina a Palazzo Pitti a Firenze. In questa diapositiva vediamo appunto il dettaglio del raggio di luce dell'illuminazione che colpisce la figurina descritta precedentemente sulla riva, cioè San Giovanni a Patmos.